Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre parlando ancora una volta di una truffa ai danni di un anziano, un 85enne in provincia di Pistoia. A fermare i responsabili però sono stati i poliziotti della sottosezione di Battifolle lungo l'autostrada del Sole. I due appunto sono stati fermati durante un normale controllo ma il loro atteggiamento ha insospettito gli agenti e allora hanno ovviamente perquisito l'automobile e all'interno di essa sono stati recuperati numerosi monili e 300 euro in contanti. La truffa è quella messa a segno ormai davvero tantissime volte ovvero il finto incidente ad un figlio. L'85enne aveva già denunciato il fatto e allora i poliziotti gli hanno dato insomma la lieta notizia di aver assicurato alla giustizia irresponsabile e recuperato la refurtiva. Parliamo adesso di botti di Capodanno. Sono 40 le tonnellate sequestrate dalla Guardia di Finanza di fuochi d'artificio illegali. Un bilancio davvero importante in tutta Italia. Sono stati 242 gli interventi da parte delle fiamme gialle che hanno portato al sequestro di oltre 1.700.000 fuochi d'artificio illegali per un peso complessivo appunto di 40 tonnellate. Sono state segnalate all'autorità giudiziaria 149 persone di cui 13 arrestate. E adesso invece con FederConsumatori. Parlando dei rincari che sicuramente ci aspettano anche nell'anno nuovo nel 2024 e gli importanti cambiamenti. Uno di questi la fornitura del gas come sappiamo andremo tutti nel mercato libero anche chi oggi è ancora nel cosiddetto mercato tutelato anche se insomma la data è slittata di alcuni mesi. E allora arrivano i consigli di FederConsumatori. Mancano davvero pochi giorni da gennaio infatti termina il mercato tutelato del gas esclusi i clienti vulnerabili. Sentiamo i consigli di FederConsumatori. Finora nel mercato tutelato le tariffe sulle bollette luce gas sono state determinate da giornate periodicamente da Rera sulla base del prezzo di mercato. Nel mercato libero invece gli utenti potranno scegliere liberamente gli operatori disponibili a derogare offerte differenti tra loro. In quest'ottica sarà possibile optare per un sistema di tariffe fisse o variabili. Non avere fretta perché non viene staccato il gas. Soprattutto verificare nei siti deputati di Rera che portare offerte. E lì inserendo tutta una serie di dati compariranno tutte le offerte in vigore nella zona. Il mercato tutelato non cesserà di esistere del tutto. Rimarrà infatti attivo per i soggetti vulnerabili. Tutti coloro che hanno compiuto 75 anni d'età, poi tutti coloro che percepiscono i bonus gas, quindi il bonus energia, coloro che hanno la 104, l'intestatario dell'utenza che ha la 104, coloro che vivono in zone soggette a calamità naturale e le isole non interconnesse. Chi non avrà scelto entro gennaio un fornitore del mercato libero entrerà automaticamente a far parte di un regime transitorio nominato servizio a tutele graduali predisposto ad Rera. Continueranno con lo stesso venditore che quello che forniva la tutela con tariffe leggermente più care. La fine del mercato tutelato dell'energia elettrica è stata invece rinviata al 1 luglio 2024. Ancora in attesa di conoscere se la prossima legge di bilancio prevederà di riattivare lo stanziamento del contributo affitti, quale misura di contrasto al disagio abitativo, il Comune di Arezzo si è già attivato tramite la Commissione territoriale per monitorare costantemente le esigenze degli affittuari sottoposti a procedura di sfratto per verificare la necessità di un intervento con sossidi e aiuti. Secondo i dati aggiornati al novembre 2023 e forniti dal Tribunale di Arezzo, nell'intera provincia gli sfratti convalidati sono stati 232, un allarme che, lo ricorderete, aveva lanciato anche il Sunia. E allora, in una nota, l'assessore alla Casa del Comune di Arezzo, Manneschi, ricorda che per sostenere gli affittuari proprio oggetto di sfratto, nonostante il blocco del contenuto affitti, l'amministrazione comunale ad ottobre di quest'anno ha pubblicato un bando per l'erogazione di un contributo riservato ai locatori ultra 65 anni. Torniamo a parlare della stazione Medio Etruria, un dibattito che ancora infiamma la politica aretina e anche la società civile. Oggi ad intervenire sono stati i consiglieri regionali del PD. Già ad una prima vista ci sono delle incongruenze che sono abbastanza palesi. Ancora una volta siamo qui a sottolineare il fatto che non si privilegia una soluzione di scambio ferro-ferro, anzi si stima l'accesso ad un'eventuale stazione a Rigutino per solo il 2% degli utenti stimati che sarebbero 1.400.000 che è il più alto numero di tutte le soluzioni prese in considerazione. Quindi l'altra incongruenza è quella che si privilegia comunque un bacino inferiore andando a scegliere Creti anziché Rigutino. Sono i due consiglieri regionali del PD, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, a tornare sul tema della stazione Medio Etruria. Troppe le incongruenze in attesa di capire il perché della scelta di Creti. L'altro aspetto è anche la qualità dell'utenza perché con la soluzione Rigutino o anche Arezzo stazione attuale sarebbe molto più alta la percentuale degli utenti che si dirigono anche al nord. E poi ci sembrano i costi per la soluzione Rigutino eccessivamente sovrastimati. E intanto sul tavolo una soluzione temporanea in attesa appunto della nuova Medio Etruria quella di potenziare il numero di treni ad alta velocità in transito ad Arezzo. Da subito, davvero da subito, secondo me questo territorio ha bisogno che dalla stazione di Arezzo si fermino più treni ad alta velocità sia che provengono da sud verso nord sia da nord verso sud perché rischiamo di perdere, con la scusa di fare la stazione da un'altra parte, rischiamo noi di diventare una stazione di serie B. Loro parlano addirittura ai 14 coppie ipotizzate nella stazione di Arezzo ce ne sono tre, si raddoppino almeno, possibilmente anche di più si diano una risposta a chiusi e nel frattempo il dibattito potrà andare avanti. Infine i due consiglieri intervengono sul tema dei pendolari dell'efficienza del servizio regionale e dei ritardi dovuti agli scambi con i treni ad alta velocità. Credo che per quanto riguarda i pendolari occorra veramente un cambio di passo perché il servizio dati alla mano è peggiorato. È peggiorato rispetto ai livelli che erano stati raggiunti qualche anno fa e questo al di là dei richiami e delle sanzioni ha bisogno veramente di una scossa forte perché non è possibile che tutti i giorni riceviamo delle lamentele giuste fra l'altro perché dati alla mano basta andare a vedere quelli che sono i bonus concessi per i disservizi sono raddoppiati e quindi c'è qualcosa che non funziona. Un applauso a questo intervento arriva proprio dal comitato Sava che peraltro aveva nelle scorse ore anche lanciato un appello a Patrizio Bertelli patron di Prada. Se vuole bene ad Arezzo aveva detto il comitato facciamo squadra i prossimi mesi saranno molto delicati e servirà appunto il supporto di tutti. Ma sentiamo proprio il comitato Sava sull'intervento che abbiamo appena ascoltato dei consiglieri del PD. Il comitato Sava esprime gratitudine e apprezzamento nei riguardi del consigliere capogruppo in Regione Toscana del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli per l'ottima proposta di potenziare le stazioni di Arezzo e Chiusi. Non di meno si rammarica con tutta la Regione Umbria cominciando dalla Giunta e dal Assessore regionale ai Trasporti che ancora una volta per un capriccio e una visione particolaristica ha purtroppo e suo malgrado determinato l'affievolimento e quindi di fatto l'impossibilità di realizzare in solo altrui quello toscano la Medio-Etruria che sarebbe comunque distata a soli 45 minuti dal capoluogo regionale, da Perugia. Questo ci preme sottolineare e vorremmo continuare a seguire comunque l'importante progetto che segnerà uno sviluppo economico e sociale mai visto prima d'ora una volta che i signori che attualmente governano l'Umbria avranno fatto un passo indietro. Ancora politica Italia Viva traccia il bilancio di un 2023 che sta volgendo al termine e guarda al futuro soprattutto alle elezioni europee. E allora nel nostro prossimo servizio sentiremo la voce di Gianni Ulivelli coordinatore provinciale e del responsabile dell'area arettina Riccardo Sestini. Chiaramente è stato un anno abbastanza problematico all'inizio dell'anno era partito molto bene con la vicenda del terzo polo poi purtroppo anche nelle migliori famiglie non ci si capisce è successo quello che è successo e ora invece davanti a noi abbiamo questo elemento del congresso ci serve per lanciare il grande obiettivo delle elezioni europee 2024 perché si vota il proporzionale e ci auguriamo che tutta quell'area liberal democratica e riformista che in Europa nel Parlamento Europeo fa riferimento al Regno Europe di Macron possono arrivare alla fine in attesa di arrivare alle votazioni e avere un'unica lista. La nostra scelta è chiara noi siamo un partito europeista la nostra direzione è quella di Renew Europe che fa riferimento al presidente francese Emmanuel Macron e quindi saranno momenti, mesi importanti da qui al futuro sia per il nostro partito ma anche per il futuro dell'Unione Europea. In più abbiamo con questa nuova organizzazione partiti per affrontare tutte le varie elezioni amministrative della nostra provincia che nel 2024 sono 26 e quindi ci vedranno impegnati sia nei comuni sotto i 15.000 abitanti dove cercheranno di fare partecipare insieme a liste civiche perché non avrebbe altro tipo di formula però che tengono conto di quelli che sono i nostri valori di quelli che sono le nostre proposte nazionali rapportate però alla dimensione dei vari territori dove voteremo. Mentre nei comuni sopra i 15.000 abitanti cercheremo di fare delle nostre liste di area di area liberale, democratica e riformista cercando di far emergere quella rappresentatività nei vari consigli comunali. Il nostro partito è un partito di centro che si riconosce in uno spazio liberale, democratico e riformista quindi noi stiamo cercando in tutto il territorio di aprire un dialogo per tutte quelle forze e movimenti che fanno riferimento a quest'area. Questo è stato un anno impegnativo come detto che si è chiuso anche con numerose polemiche tra le ultime quella relativa all'addizionale IRPEF che vi ha visto in consiglio regionale e contro la maggioranza. L'addizionale IRPEF va a incidere a partire da 1.400 euro netti al mese quindi considerate qualsiasi fascia di stipendio ma anche pubblico. L'infermiera che fino a due anni fa era considerato il personaggio importante dovuto al post-covid e ai medici con questo addizionale quello che può perdere i benefit gli viene completamente recuperato dall'addizionale IRPEF. Noi avevamo posto questo voto dicendo intanto non c'era bisogno di fare questa scelta perché i bilanci andranno a essere delle varie asle valutati ad aprile. Secondo elemento, volevamo alzare quello che era la parte dei 28.000 euro lordi ma arrivare a una cipa più alta per non andare a incidere su stipendi netti come facevo riferimento e il terzo elemento era che prima di fare le tasse proprio che siamo un'istituzione importante e se devono prima efficientare quello che era lo stato di salute della sanità toscana perché fino a tre anni fa, prima covid c'era un certo tipo di assessore che si chiamava Stefania Saccardi e forse chissà in questi tre anni la sanità ha mancato anche di una gestione adeguata dal punto di vista dell'assessore alla sanità. Ecco qual è l'augurio a tutti gli aretini? Allora auguro un felice 2024 e che siano fortunati e felici nel prossimo anno. Con il prossimo servizio invece torniamo a parlare della storia di Marco Cerofolini fotografo affetto da sclerosi multipla una diagnosi che era arrivata addirittura nel 2012 ma che non l'ha fermato come sappiamo ha organizzato una mostra fotografica all'interno del centro sociale di Quarata paese nel quale risiede e che peraltro sarà visitabile fino al 31 di dicembre ma adesso vuol fare altri passi e la nostra emittente, se ci possiamo permettere l'ha un po' aiutato a farli. Quest'anno per caso abbiamo visto la storia di Marco la storia di Marco ci ha colpito e quindi noi siamo qui per consegnare a Marco La fratres di Ponticino arriva a casa di Marco Cerofolini in una sera di dicembre che nessuno si sarebbe aspettato di vivere una donazione che servirà a raggiungere un sogno personale e collettivo grazie al coraggio di Marco e al servizio di Arezzo TV che ha fatto da megafono. È stato visto da questa associazione di volontariato che sono rimasti colpiti dalla storia sicuramente un po' dal messaggio che c'è racchiuso dietro Marco abita a Quarata un borgo alle porte di Arezzo convive con la sclerosi multipla dal 2012 ma questo non gli ha impedito di realizzare una mostra fotografica che ritrae proprio il borgo di Quarata visto dalla sua prospettiva. Il progetto mio è di rendere Quarata fruibile per tutti poi devo valutare anche altre scelte mie una carrozzina, una rampa avevo un progetto in mente poi se riesco vi documenterò quello che riuscirò a realizzare e spero di muovere qualche sensibilità su tante persone perché è possibile. Dopo aver conosciuto la storia di Marco i volontari della Fratres hanno raccolto le donazioni durante la vigilia di Natale e hanno dunque deciso di destinarle alla sua causa. Era una serata particolare che noi facciamo ormai da tanti anni è la serata di Babbi Natale vestiti da Babbo Natale e gli Elfi andiamo nelle famiglie e loro ci accolgono a braccia aperte tante famiglie sanno ormai quello che facciamo perché non è la prima volta non è una cosa fatta a caso ci fanno la donazione vorrei che veramente fossero abbattute queste barriere ma abbattute sotto ogni punto di vista non solo architettoniche ma legali, legislative e governative. Nei progetti di Marco anche un Disability Day per far capire le difficoltà di vivere un centro storico e bagni accessibili nelle strutture aperte al pubblico una storia di resilienza e coraggio dunque che non si fermerà qui proprio come Marco. Se mi fermo parecchio in carrozzina poi rimuovermi è più faticoso quindi otto passi oggi nove domani c'era un libro cento colpi di spazio prima di dormire cento passi al giorno prima di dormire. Croce Rossa italiana ancora in campo per l'attività di prevenzione per l'epatite C e anche altri test il prossimo appuntamento nell'Arettino è per domani sabato 30 dicembre al mattino al mercato del Giotto e al pomeriggio in piazza San Jacopo per continuare nell'azione di prevenzione prevista dalla campagna Testiamoci per l'epatite C i volontari effettueranno anche test sui principali parametri vitali al fine di promuovere la consapevolezza e la prevenzione delle principali malattie cardiovascolari e adesso invece con il prossimo servizio andiamo alla misericordia di Arezzo dove è stato tracciato un importante bilancio di questo anno che si chiude e ovviamente si guarda anche al futuro la misericordia di Arezzo può guardare con fiducia e anche con prospettiva al futuro perché? perché ha una struttura solita economicamente e in maniera organizzativa ha un magistrato fatto da rettori validi insomma abbiamo creato una struttura adeguata per guardare al futuro si chiude un anno ed è un momento di bilancio anche per la misericordia di Arezzo è stato tracciato nella sede a Retina alla presenza del suo governatore e del presidente nazionale Domenico Gianni è un servizio che viene svolto per la città nella città con la città come ci ha detto il governatore è una presenza costante non solo ai servizi di emergenza ma quelli alla popolazione ai servizi sociali i servizi di prossimità l'attenzione ai fragili agli ultimi quindi un grande patrimonio di cui dobbiamo essere fieri ma di cui anche le istituzioni si devono sentire responsabili cioè le organizzazioni di volontariato e io qui saluto anche le altre organizzazioni cittadine come le nostre le nostre consorelle la Croce Bianca e la Croce Rossa sono questo patrimonio di questa gente di questo popolo a servizio del popolo gente a servizio della gente sempre presenti attenti ai bisogni della popolazione la misericordia di Arezzo guarda avanti e ai progetti futuri c'è una sede storica che rimane questa in via Garibaldi con la chiesa che procederemo al restauro e che invito tutti coloro che mi ascoltano ad adottare questa chiesa perché è la chiesa delle famiglie aretine siamo tutti passati da questa chiesa deve essere più accogliente più luminosa e il progetto è già pronto poi apriremo una struttura socio-sanitaria in via Tarlati nella zona della Catona dove non c'è mai stata un'attività sanitaria e apriremo noi e apriremo una struttura anche destinata agli anziani autosufficienti e all'attività sanitaria e infine una nuova ristrutturazione della collocazione delle autoambulanze nella zona pescaiola vicino all'ospedale insomma un quadro robusto di prospettiva e di grande sostegno alla comunità di Arezzo io davvero non faccio mai critiche faccio appelli quindi l'appello alla politica è quello di farsi carico di queste tematiche e allora mancano davvero poche ore all'arrivo del nuovo anno quindi fervono i preparativi insomma in ogni angolo della provincia per le tante feste e le tante iniziative e come di consueto è arrivata anche l'ordinanza firmata dal comune di Arezzo che dispone nei giorni di domenica 31 dicembre e lunedì primo gennaio 2024 il divieto di accendere fuochi d'artificio e altri artifici pirotecnici come petardi o mortaretti in tutta l'area del centro storico compresa nella ZTLA e B inoltre dalle 12 di domenica alle 7 di lunedì ai titolari degli esercizi di somministrazione e anche commerciale che siano in sede fissa o temporanee che si trovano chiaramente nel periodo appunto nel perimetro appunto del centro storico interessati anche dalla festa è vietato somministrare e vendere per asporto bevande e alimenti in recipienti di vetro e lattine un'ordinanza simile quella firmata anche dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi qui però il capodanno si festeggerà sul ghiaccio Sarà un capodanno sul ghiaccio il prossimo 31 dicembre dalle 22 qui in piazza Favur con DJ set un led wall molto grande in cui passeranno video musicali immagini di San Giovanni Valdarno poi il countdown quindi invito tutti i san giovannesi ma anche non san giovannesi a venire qui il 31 di dicembre dalle 22 in piazza Favur a San Giovanni Valdarno organizzata questa serata in collaborazione con la Proloco e con UC Event che ha collocato nella nostra piazza centrale di San Giovanni Valdarno questa bellissima pista di ghiaccio che sta avendo un successo straordinario vi aspetto tutti il 31 di dicembre Riprendiamo questa tradizione in questa bellissima piazza insieme a tutte le attività che abbiamo messo in piedi per il 31 la pista di ghiaccio che chiaramente sta andando alla grande tanta musica e poi per le famiglie che dopo il cenone vorranno venire dalle 22 in poi in questa piazza i brindisi che sarà offerto dall'amministrazione comunale e dalla Proloco e ci spostiamo adesso invece a Cortona dove per Capodanno torna il tradizionale appuntamento della colazione tra i tesori etruschi al Mike appunto il primo gennaio le sale di Palazzo Casali ospiteranno il tradizionale evento ed infine chiudiamo il nostro telegiornale con un augurio davvero speciale proveniente dalla vicina Cortona ma residente da un po' di anni a Castiglion Fiorentino compie 100 anni proprio oggi la signora Andreina Coppini alla quale il sindaco di Castiglion Fiorentino ha rivolto un caloroso augurio per questo secolo di vita in Val di Chiana nel 2023 ricorda proprio Mario Agnelli a Castiglion Fiorentino si sono festeggiati quattro centenari sulla quale spicca appunto per la ragguardevole età Irma Agnelli che lo scorso 31 ottobre ha festeggiato ben 103 anni è davvero tutto per il nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci a Grazie a tutti.